Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa c'è comunque perso E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato Per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato E anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno, non mi ha ringraziato A te che mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo E ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare Devi solamente stare zitta e ringraziare Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro Guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso Perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio Ha nessuna condizione pensare sia sbagliato o vivere liberamente la propria sessualità La manipolazione a scopo sessuale è violenza Farti credere che senza di lui non ce la puoi fare È violenza Ha nessuna condizione Dividere le donne in bravi ragazze e ragazze facili Ha nessuna condizione giustificare la violenza Diffondere le tue foto private È violenza Ha nessuna condizione Pensare che se il tuo partner ti tradisce è perché tu in qualche modo ne hai una colpa Non accettiamo queste situazioni Il terrorismo psicologico è violenza Ha nessuna condizione accettare il ricatto sul denaro da parte di mariti e partner Questa è una tra le forme più gravi di violenza Ha nessuna condizione dire che ognuna ha l'uomo che si merita Ha nessuna condizione vivere le separazioni come dei faldimenti Le minacce sono violenza Ha nessuna condizione dire ad una donna troia La continua svalutazione del partner è violenza Ha nessuna condizione confondere l'amore con il possesso Ha nessuna condizione Ha nessuna condizione dire che una donna senza figli è una donna a metà L'insistenza di fronte a un no è violenza Ha nessuna condizione obbligare una donna a farsi una famiglia Ha nessuna condizione gli apprezzamenti volgari Lo stalking è violenza Gli insulti sui social sono violenza Ha nessuna condizione accettare di vivere nella paura Ha nessuna condizione dare tutta la colpa all'altra se il tuo partner ti tradisce Distruggere l'autostima del proprio partner è una violenza, dobbiamo capirlo Colpevolizzare la vittima è violenza Creare dipendenza affettiva è una forma di violenza Il ricatto morale è violenza Ha nessuna condizione dire a una donna ti assumo solo se non ti metti in maternità nei prossimi anni Ha nessuna condizione imporre a una donna di sopportare un uomo violento per il bene della famiglia Ha nessuna condizione etichettare come poco di buono una donna che cambia tanti partner Ha nessuna condizione sopportare una relazione tossica Negare la violenza è violenza Ha nessuna condizione il controllo ossessivo del partner Ha nessuna condizione non denunciare qualsiasi tipo di violenza per paura o per vergogna Ha nessuna condizione giudicare una donna che esce la notte per andare a divertirsi Ha nessuna condizione limitare la propria libertà per paura del giudizio Ha nessuna condizione incolparsi per le violenze subite Ha nessuna condizione annullarti per il tuo partner Ha nessuna condizione dare dell'ubriacone a una donna solo perché beve alcolici L'umiliazione è violenza Ha nessuna condizione criticare una donna che esce da sola Ha nessuna condizione dire che se ti stuprano è perché te la sei cercata Ha nessuna condizione fare domande sulla vita privata ad un colloquio di lavoro Per contrastare il fenomeno della violenza di genere è fondamentale cercare di comprenderlo in tutta la sua complessità Infatti la violenza non è soltanto quella fisica Esistono forme di violenza più subdole e sottili Come ad esempio la manipolazione, il ricatto economico, le minacce, le intimidazioni, le continue svalutazioni E anche tutti quei condizionamenti sociali e quelle discriminazioni di genere ancora esistenti Nonché la minimizzazione e la negazione di queste forme di oppressione Rappresentano essi stessi una violenza Inoltre è interessante andare a vedere proprio per questo Quali sono le forme di condizionamento e di discriminazione Dalle quali si sentono maggiormente oppresse le giovani generazioni Vediamolo La violenza psicologica Quella di cui nessuno parla Mentre tu ti ritrovi da solo con te stesso A fare i conti con quei segni apparentemente invisibili Nella mia compagnia non mi sentivo me stessa Non affrontavo a modo mio l'adolescenza Per paura dei loro giudizi E per paura di essere diversa L'amicizia con Chiara iniziava ad essere più forte Stavo affrontando con lei le mie esperienze d'adolescente Stando più tempo con Laura Che vedevo molto più simile a me Affrontavo le mie giornate diversamente E uscivo sempre meno con i miei amici Come ogni adolescente Il sabato sera bevevamo di più Frequentavamo spesso discoteche E avevamo frequentazioni con vari ragazzi Alla fine quei giudizi tanto temuti sono arrivati Secondo loro stavo cambiando Stavo diventando poco di buono e un'ubriacona Quei giudizi, detta Chiara Alla fine arrivarono anche a me Facendomi passare per quella che l'aveva portata Sulla cattiva strada Quei giudizi, oltre a tanta rabbia Hanno portato molti timori in noi E per paura di essere giudicate di nuovo Non facevamo più le cose che volevamo Questi non sono solo giudizi Ma è una vera e propria forma di violenza Verbale e psicologica La violenza non deve mai trovare giustificazione Neppure negli errori delle vittime Ci sono uomini che considerano le donne Come delle prede E utilizzano i social per addescarle Diventano molesti, sgradevoli, pesanti ed assillanti Arrivando a creare anche profili falsi Per ricontattarle Insomma I social vengono scambiati per una vetrina Dove la donna è vista come carne al macello Questo si chiama cyber stalking Ed è inaccettabile Uomini che si comportano in questo modo Non sono definibili tali Quindi Donne Non fatevi intimorire Ma reagite Ci sono tanti modi per farlo E non siete sole La società sente continuamente il bisogno di negare la violenza E di spostarla verso un colpevole esterno L'uomo non è un animale Per questo non deve essere giustificato Una donna che tradisce una poco di buono Mentre un uomo aveva un istinto da soddisfare Uno stupro va giustificato per una gonna troppo corta della vittima Siamo arrivati a un periodo storico avanzato Dove la parità dei sessi Del vivere liberamente la propria sessualità Non c'è ancora Io donna come tu uomo Ho il diritto di vivere liberamente In ogni aspetto della mia vita Una barzelletta che nel ventunesimo secolo Il sesso sia ancora un tabù Dobbiamo evolverci I passi indietro partono proprio da questo Dalla negazione e dalla giustificazione È comodo giustificare l'uomo Su importuni, tradimenti, violenze e stupri E girare la faccia dall'altra parte Ed è altrettanto comodo Quando la protagonista ha una donna Puntare il dito e utilizzare frasi sessiste L'uomo ha pieno diritto di gestire la propria vita sessuale Liberamente, così come una donna La violenza non va mai giustificata Che sia l'uomo il carnefice E che sia una donna Ripeto che dobbiamo evolverci L'uomo, se davvero uomo Gli istinti animaleschi, così li chiamate Li controlla Ribadisco, non siamo animali in piena giungla E noi donne non siamo a livello sotto il vostro La libertà è un diritto di tutti Ma ancora oggi a noi donne viene negata Evolviamoci Ti amo Sei la donna della mia vita Sei solo mia Mi continuava a ripetere questa frase Anche se all'età di 14 anni non sapevo cosa significasse amare Inizialmente, come in ogni relazione, tutte rose e fiori Solo che a un certo punto qualcosa è andato storto Sentivo che c'era qualcosa che non andava Ma era il mio primo amore Come potevo oppormi? Fragile e ingegno a quale ero Mi aveva convinto che l'unico modo per stare bene Era stare solo con lui Io avevo bisogno di stare con lui O almeno Me l'aveva fatto credere È stato un processo lento Inizialmente mi aveva vietato di uscire con i miei amici maschi Che cosa carina Il mio ragazzo è geloso Vuol dire che ci tiene tanto a me Pensai inizialmente Poi successivamente Voleva che ovunque andassi io Lui doveva stare con me E quelle poche volte che uscivo con delle mie amiche Lui mi chiedeva di inviargli le foto di dove mi trovavo Perché lui non si fidava di me Anche se sosteneva al contrario Io non mi fido degli altri Ma di te mi fido Non ci ho mai creduto Iniziò a impedirmi di mettermi le gonne Perché io ero soltanto sua E nessun altro poteva vedermi Io e lui litigavamo ogni giorno Solo che non riuscivo a tenere testa E quindi prendevo tanti insulti Litigavamo per qualsiasi cosa Ad esempio Se non gli rispondeva un messaggio Per dieci minuti Lui mi tartassava di chiamate Di messaggi E una volta che gli rispondevo Lui si arrabbiava con me Mi sbraitava addosso tutto il suo odio Tutto il suo rancore E iniziava a farmi il quarto grado Dove sei? Con chi sei stata? Ma non ti vergogni Di comportarti così nei miei confronti La situazione era davvero pesante E oppressiva Ma lui ogni volta Mi ripeteva che se si comportava così Era perché mi amava Come potevo non perdonarlo? La situazione si è aggravata Nel momento in cui ho iniziato a mentire Ho iniziato a ducire di nascosto Perché io non volevo sentirmi segregata Avevo 14 anni Volevo vivere la mia vita Ho iniziato a vivere con l'ansia Di essere sgamata da qualcuno Che mi spiava Vivevo costantemente nella paura Che lui potesse di nuovo Riversare il suo odio su di me Vivevo costantemente nell'ansia Di non essere abbastanza Mi sentivo una nullità Costantemente Finché un giorno Presi coraggio E gli dissi Che volevo finire questa relazione Perché mi hanno resa conto Che era mal sana L'avrà presa bene? No Certamente no Lui non poteva accettare Che qualcuno Anzi La sua ragazza L'abbandonasse Per più o meno Due settimane Ha continuato a fare degli appostamenti Sotto la finestra di casa mia Fino a tarda notte Restava giù A fissare la mia finestra E mi scriveva Che solo il pensiero Che io mi trovasse dentro la mia stanza Lo faceva stare bene Io avevo paura Avevo ansia di uscire Avevo paura di trovarmelo ovunque Mi continuava a scrivere Di perdonarlo Che lui mi amava veramente Che sarebbe cambiato Ma bisogna capire Che un uomo che fa così Non ti ama Io sono stata succube Delle sue parole Per fin troppo tempo È un abile manipolatore Ho chiesto aiuto A mia madre Perché una situazione del genere Non riuscivo a tenere Sotto controllo Era fuori di me Era troppo grande Ho scelto di raccontare La mia storia Perché so che in questo momento Ci sono tante ragazze Che si trovano in questa situazione E il messaggio che vi voglio trasmettere È che voi siete donne forti Voi non siete delle nullità E ricordatevi Che voi non siete di nessun altro Se non di voi stesse Oggi noi parliamo di progresso Ma io mi chiedo Di che progresso stiamo parlando? Che ancora oggi Ci troviamo in condizioni Dove la discriminazione E la disparità di trattamento Ci sono ancora Io sottolineo in particolare La condizione della donna Nel mondo del lavoro Perché ancora oggi La donna si trova di fronte A delle domande del genere Quindi con chi vivi Se sei sposata o fidanzata Se intende sposarti O fare figli Ma queste domande Non so con che diritto E con che coraggio Chiederle a una donna Già al momento dell'assunzione Quindi non vedo perché Ci sono ancora queste disparità Quindi chiedere tutte queste cose A una donna E non a un uomo Questi dettagli Fanno parte Della vita privata Fanno parte Della vita privata Di ciascuna persona E io qua parlo Della donna Perché ancora oggi Subisce discriminazioni Disparità di trattamento E poi anche disparità Nelle retribuzioni Siccome la donna Ha diritto alla maternità Perché non diminuiamo Anche la retribuzione Ma lo stesso lavoro Il lavoro che presto io Donna E' lo stesso lavoro Che presto un uomo Quindi non vedo perché Ci sono queste discriminazioni Ma se il problema È la maternità Io non lo vedo Veramente come un problema Perché la maternità È un diritto per una donna Come il lavoro È un suo diritto Quindi la maternità Deve essere tutelata Deve essere tutelata Per tutte quelle persone Che incontrano una donna Che manifesta segni Di violenza subita E non fanno niente Per aiutarla O per tutti quelli uomini O perché no donne Testimoni di violenze Che osano dire Che ogni donna Ha l'uomo che si merita Sapete che tutto questo Non è giustificabile In nessun modo Questa grave indifferenza E negazione Come benzina in un incendio Non fa altro Che alimentare la violenza stessa Come si fa Con vivere con se stessi Dopo essersi girati Dall'altra parte Alla visione Di una donna in difficoltà Come fate a convivere Con questa patria morale Che vi portate dentro Il primo passo Per poter sconfiggere La violenza E poterla individuare E per poterla individuare È essenziale Superare il muro Dell'indifferenza Dovete smettere Di fingere Di essere ciechi Quando basterebbe Spostare lo sguardo Sui lividi I segni Che portano diverse donne Per capire Che quello che accade Anche me Nella porta di fianco Alla vostra Questi sono i segnali Che non potete ignorare Ed è per questo Che vi dico Che è l'indifferenza Che mettete in atto Ogni giorno Perché magari pensate Che la cosa non vi riguardi Invece io vi dico Che vi riguarda Perché così Non siete altro Che complice Del carnefice stesso Ancora ad oggi Noi donne Vediamo Tuttevolmente discriminate Basta pensare Alle parole Che ogni giorno Ci vengono attribuite Dagli uomini O dalle stesse donne Pensiamo a quei termini Come zitella Perché per una donna È dispregiativo Invece Per un uomo Il termine scapolo Non lo è Pensiamo a quelle parole Come zoccola Baldracca Puttana Potrei rencarvi altri 3000 aggettivi Di questo tipo Perché denigrare E disprezzare Così una donna Cos'è Vi fa sentire più uomini Che amarla troia E poi perché Perché ci vengono Attribuiti Questi aggettivi Perché compiamo Delle azioni Tanto quanto Le compiete voi Perché a voi Quando andate a letto Con 20 donne diverse In una settimana Siete dei gran fighe Gli amici Vi fanno anche Gli applausi Di sottofondo Invece lo facciamo Nei donne E siamo delle Poco di buono Cos'è Abbiamo qualcosa Di differente da voi No Perché mangiamo Pensiamo E ragioniamo Uguale Come lo fate voi Quindi Per favore Smettiamola Di giustificare Questi aggettivi Queste parole Dicendo che sono Discorsi da campetto Da spogliatoio Quando che Se mi dispiace Se una donna Nel 2020 Viene ancora denigrata Non è un discorso Da spogliatoio Ricordo Gli sguardi Di quell'uomo A volte Feroci E a volte Più dolci Quando sfiorava La mia pelle E non Lo facevo Quasi mai Per darmi Una carezza Ricordo I suoi apprezzamenti Gli stessi Che rimbombano Nella mia testa Quando cammino Da sola Per strada Io Non ho paura Eppure Ogni sguardo Di troppo Ogni complimento Da parte Di uno sconosciuto Mi fanno Battere forte Il cuore Per paura Timore Rabbia È come se Quell'inferno Iniziato Quando ero ancora Troppo piccola Non fosse mai finito Una sera Dell'estate Scorsa Ho ricevuto Mentre loro Da sola Per strada L'ennesimo Saluto Malizioso Da parte Di un maschio Era grande Ma questo Forse non importa Perché le parole Non hanno età Da chiunque Vengono dette Fanno male Allo stesso modo Come sono abituata A fare Solitamente In queste situazioni Non ho Ricambiato il saluto Sono andata avanti E ho cercato Di non accelerare Il passo Per non fargli pensare Che io avessi paura Perché io di paura Non ne ho Il problema È che Dovrei averne Era ancora Troppo vicina Quando il Ciao Da meno Ricambiato È stato seguito Da Una frase Se Le avessi proposto Un atto Sessuale Lei sicuramente Avrebbe accettato Diciamo che Non l'ha detta Esattamente Così La frase Era più volgare Ma Certe parole A me disgustano Fanno male E riaprono Delle ferite Che io Non merito Di avere Ma che purtroppo Sono condannata A portare Per il resto Della mia vita Non so Cosa io Abbia provato In quel momento Però Penso che A certe donne Non ci sia Neanche bisogno Di spiegarglielo Perché Lo provano Spesso Nella loro vita E questo E questo Mi fa rabbia Mi fa rabbia Pensare Che ci possa essere Una donna Che ne soffre E una donna Che invece Ci ride su Come se Questa fosse Una battuta Come se Facesse ridere Mi sono Spaventata Io in quel momento E ci ho pensato Forse Fino Alla notte Fino a quando Sono andata a dormire E Non è vero Che se Lui mi avesse Fatto una proposta Di altro tipo Io Avrei accettato Ma Odio Pensare Che gli uomini Pensino Questo Delle donne E odio Pensare Che se io Avessi accettato Comunque Sarebbe stato Un problema Comunque Io sarei Stata giudicata Perché in ogni caso Sono donna E per questo Io non sono libera Di poter fare Ciò che voglio O meglio Questo È quello che Tante persone Ancora oggi Credono Con questo video Mi rivolgo A tutti gli uomini Che ancora ad oggi Nel 2020 Praticano il cyberbullismo Contro le donne Facendo girare Foto che esse Pubblicano autonomamente Però con modifiche Pornografiche O Di dascalie Poco cortesi O addirittura Facendo girare foto Intime Che esse Mandano direttamente A loro Pensando di potersi fidare Diciamo che di questo tema Io posso parlarne In prima persona In quanto Purtroppo Quattro anni fa Una pagina di facebook Di cui Era a comando Un uomo E ne sono sicura Perché ho avuto Le mie conferme E ho affettuato Le mie ricerche Ha pubblicato Una mia foto Che avevo già pubblicato Io Nel mio profilo di facebook Autonomamente Utilizzando Come didascalia 2000 Ovvero L'anno in cui sono nata Come gli anni Che ti fai Se te la scopi E penso che questa cosa Si possa descrivere Già da sola Detto questo Voglio rivolgermi A tutte le donne Che soffrono Di cyberbullismo E Vorrei dirvi Che non dovete mai Farvi abbattere Da queste persone inutili Perché voi sapete Chi siete E quanto valete E tu uomo Che fai il leone Da tastiera Vorrei dirti Che se questo essere Uomo Noi donne Stiamo bene anche senza Ancora oggi Ci sono delle differenze Sostanziali Tra uomo e donna Infatti Lo possiamo notare Dal numero di femminicidi A questi stiamo giornalmente Perché culturalmente Anche se siamo nel 2020 L'uomo vuole prevaricare Sulla donna Si dice tanto Che ad oggi La donna Abbia acquisito Gli stessi diritti Dell'uomo Ma non è così Se una donna Vuole formare una famiglia Lo deve fare a discapito Del suo lavoro E della sua carriera Mentre un uomo no Se spesso Noi donne Veniamo continuamente giudicate Per esempio Se postiamo una foto Normale in costume Veniamo descritte Come delle poco di buono E queste foto Vengono spesso prese E utilizzate A scopi sessuali Mentre un uomo no Se veniamo spesso Giudicate Per il nostro modo Di vestirci Infatti Non siamo libere Di vestirci Come vogliamo Noi donne Dovremmo farci forza L'una con l'altra Difenderci sempre E sostenerci a vicenda Ma purtroppo Questa è una cosa Che ancora ad oggi Nella nostra società Manca Ma che dobbiamo imparare a fare Perché ad altronde L'unione fa la forza E noi possiamo farlo È normale Che la società In cui viviamo Ci imponga Di trovare un compagno Forse non è Un'imposizione diretta Ma sicuramente Una violenza psicologica Una donna non Ha bisogno Di una metà Della mela Per essere ciò che è Una donna è intera E si completa da sola Se non è fidanzata Non è sbagliata O sfigata Ha semplicemente Il diritto Di scegliere come vivere Parole dispregiative Come zitella Sono vergognose Vergognose anche Che la società Pensi che una donna Abbia bisogno Di un uomo Per costruire No Noi abbiamo Il diritto Di scegliere come vivere Mi sembra assurda Che nel 2020 Le donne Debbano ancora Avere paura Di essere stuprate Quella paura Che ci rinuncia Quotidianamente E che influenza Ogni nostra decisione Perché alla fine Il 90% Delle donne Prima di uscire Di caso Per una serata Si vuole allo specchio E si chiede Se quella donna Che tanto le piace Possa essere troppo corta O se il trucco Si è troppo marcato Ci chiediamo Se possiamo O non uscire Di casa Come vogliamo Per paura Che qualcuno Possa sentirsi libero Di toccarci E volarci Solo perché abbiamo Il ginocchio scoperto O una scollatura E una volta Che siamo in giro Non ci sentiamo al sicuro Finché non chiudiamo La porta di casa Per metterci a letto Perché chi ci dice Che non imboccheremo La via sbagliata Chi ci dice Che non uscirà qualcuno Da dietro un cespuglio Per metterci le mani addosso Ormai le donne Devono avere paura A camminare da sole Ad andare ovunque Senza che qualcuno Non li accompagni Ma non è giusto Non è giusto Che io Una mia amica E mia mamma Dobbiamo stare sempre allerta Perché sì Potrebbe succedere a chiunque Non c'è selezione Dietro chi Violentare o no Scelgono una donna Come se scegliessero Un giocattolino E si illudono Di poterla manipolare Come vogliono E vi sembra giusto Che una ragazza Non sappia più Con chi sentirsi al sicuro Perché lo stupro Può avvenire Da parte di chiunque Perfino da un familiare O da un amico Per cui metterasse la mano Sul fuoco E chi l'ha deciso Che io non possa andare A bere qualcosa Con i miei amici Solo perché loro Dopo qualche birra di troppo Potrebbero diventare Violenti o molesti Perché le persone Non riescono a fermarsi A capire cosa stanno facendo Lo stupro Rovina la vita Di una persona Perché lo stupro Una vittima Non se lo dimenticherà mai Donna Bambina Adolescente Che sia Se lo porterà Dentro per sempre E vi sembra giusto Condannare al dolore eterno Qualcuno A me no Come non mi sembra giusto Che per l'età contemporanea Io non debba mettere Un vestito troppo scollato O una gonna troppo corta Solo perché Se no Me la sto cercando Davvero pensate Che solo per come si veste Una donna Si meriti Di essere violata così Purtroppo oggi Ci sono troppe cose Che non vanno E una di queste È che una donna Non può decidere Di essere donna Come vuole Siamo nel 2020 O nel 1700 40.000 utenti 40.000 Che fanno parte Di un gruppo Dal nome squallido Come Stupro tua sorella Su Telegram E si scambiano Materiali di revenge porn Pornografia Materiali dove I protagonisti Addirittura sono minori Pedopornografia Si scambiano messaggi Da brivido Come Sono pro al femminicidio Padri che chiedono Come poter stuprare I propri figli Senza farli gridare Le vittime Di questi circoli Perversi E ripugnanti Potrebbero essere Chiunque Tu stessa Tua madre Tua sorella Sono consapevole Che queste realtà Esistano ormai Da molti anni Ma allora Cosa vogliamo fare Rassegnarci All'esistenza Di queste persone Di questi rifiuti umani Perché a questo sono Tu uomo In questo gruppo Non hai le palle Di affrontare una donna E pensi che Rifarti a una ragazzina A una donna Sia la soluzione adatta Rovinargli la vita Oppure Tu uomo Non hai il coraggio Di affrontare Una rottura Con la tua ex E pensi che Vendicarti Sia la soluzione adatta Non sei uomo Sei solo schifo La violenza di genere Non va in quarantena Queste sono espressioni Dello stupro Della cultura Dello stupro Mentre ci denigrate Insultate Minacciate Violate la nostra privacy Pensate di poter Avere potere Su di noi No Dimostra solo Ciò che siete Scarti Perché non Non è uscita La luce scarti Ah no Forse non ci sono definizioni Per mostri simili Uomini che non siete Delle specie simili a voi Dicono frasi poco degne Di rispettibilità Come Basta postare foto del viso Perché se no Un pervertito Potrebbe rubartele Oppure Smettetela di uscire di casa Perché se esci La colpa è tua Non dello stupratore Non del sessantenne Che ti guarda Come se fossi carne alla brace Il corpo è mio E faccio ciò che voglio io La tua non è Vendetta Ma è una violenza E finché avrò voce Violenza del genere Della violenza di genere Ne parlerò sempre Non exercitate potere su di noi Suscitate solo disgusto e pietà Tu non sei uomo Sei schifo Mi è capitato Un episodio spiacevole Con la mia migliore amica Un uomo adulto Si è avvicinato Io avrò avuto 16 anni Lui ne avrà avuti 50 Ha iniziato a farci Apprezzamenti volgari Non se ne andava E allora È dovuto intervenire Un'altra persona Che lo allontanasse E da quel giorno Ha avuto paura Io penso che Sia inaccettabile Che nel 2020 Una persona Soprattutto una donna Debba aver paura Ad uscire Con il terrore Di essere importunata Con apprezzamenti volgari Dobbiamo Superare Questa cosa Dobbiamo essere Libere Di Uscire Tranquillamente Con le amiche E Soprattutto Dobbiamo Essere rispettate Perché ci vuole rispetto Ciao Sono Jessica Ho 17 anni E mi sono innamorata Di Mattia Ciao Sono Mattia Ho 17 anni E mi sto frequentando Con Jessica Quelle sabato sera Tutti i miei desideri Si stavano avverando Perché ero In spiaggia Da sola con Mattia La persona che amavo Finalmente Jessica Aveva accettato l'invito Ed eravamo da soli In una bellissima spiaggia Era come tutto Desideravo La mia prima volta Con lui Ma qualcosa Quella sera andò storto Perché A nostra insaputa I suoi amici Ci stavano filmando E Da lì a poco Il video Diventò virale Quel video Mi portò a lasciare Jessica Dalla vergogna Ma non sapevo Che da lì a poco La mia reputazione Sarebbe arrivata alle stelle Quel Dannato video Rovinò La mia reputazione La mia vita E La storia con Mattia A cui tanto credevo Da quel momento Per le persone Ero diventato un figo Avevo tutte le ragazze I miei piedi Ero un esempio da seguire Ero un playboy Da quel momento Per le persone Ero diventata Una poco di buono Una ragazza facile Una ragazza senza valori E una ragazza senza dignità Avevo rovinato A mia insaputa La mia vita E quella della mia famiglia E senza parlare Degli insulti Che tutti i giorni Ricevevo Dai ragazzi Del paese Purtroppo Questa è soltanto Una delle storie Che accadono A giorni nostri Nella quale Due persone Che si trovano Nella stessa situazione Vengono valutate E giudicate In modo diverso L'uomo Passa per l'eroe Della situazione La donna E' costretta a subire Violenza psicologica E verbale Essere donna Non vuol dire Essere inferiore Le donne Vanno amate E rispettate La violenza È sempre esistita Ma nel tempo È peggiorata Sempre più Fino ad arrivare Ad atti inaccettabili Mi concentrerai In particolar modo Su un aspetto Ben preciso Sia il vestiario La domanda Che mi pongo è Ma perché Non esiste la libertà Di potersi vestire Come meglio ci aggrada Senza incorrere In gravi pericoli Come ad esempio Stupri Piuttosto che violenze Non vi è alcuna Giustificazione Plausibile Nel dire che Alcuni uomini Che definirei bestie Sono invitati A compiere azioni Così Spregevoli Solo perché L'abbigliamento Della donna È corto Piuttosto che provocante Piuttosto che scollato Chianamente sana La donna La vede Nella sua bellezza E non la terrorizza Con atti indenni E soprattutto Che la perseguiranno Per il resto Della propria vita Le relazioni tossiche O abusanti Generano Una dipendenza Affettiva Da parte delle vittime Nei confronti Dei loro stessi carnefici Poiché questi Attraverso la manipolazione Del terrorismo psicologico Fanno a pezzi L'autostima Del partner Inducendolo a credere Di non aver più Alcun valore Nè possibilità Di poter fare a meno Del proprio aguzzino L'alto livello Di intossicazione Generato da simili Trappole relazionali Spesso impedisce Di scappare Dalla propria prigione Non soltanto Per paura Del proprio carceriere Ma per il timore Di non essere più in grado Di riprendersi in mano La propria vita E di potersela cavare Da soli Queste stesse paure Accompagnano anche Chi sta intraprendendo Un percorso di separazione O che si è appena allontanato Da un partner violento O manipolatore Con un valido Supporto psicologico È possibile Rielaborare Costruttivamente Il proprio vissuto Riacquisire L'autostima Ritrovare il proprio valore La propria centratura E una nuova progettualità Per poter finalmente Decidere di sé Dal punto di vista giuridico Per genere Si intende Il modo in cui Una persona Percepisce Ed esprime La propria appartenenza Ad un sesso Che non deve essere Necessariamente Maschile O femminile Essendo riconosciuta Una vasta serie Di intersessualità Che si possono manifestare Sin dal momento Dell'infanzia Delimitata La caratteristica Del genere Se ne può ricavare Il concetto Di violenza Di genere Ovvero Tutte quelle condotte Poste in essere Che vanno a ledere Lo sviluppo Della personalità Individuale E sociale Di un soggetto Mentre in passato La violenza Di genere Era riferibile Quasi esclusivamente Alla violenza Fisica In questo preciso Momento storico Essa fa riferimento E assume Sempre più spesso Connotati Psicologici Il nostro Legislatore Tutela Le vittime Della violenza Di genere Attraverso strumenti Sia penali Che civili Cosiddetti Ordine di protezione Tra cui Più importanti Sono L'allontanamento Dalla casa familiare Dell'autore Della condotta E L'ordine Di non avvicinarsi Ai luoghi Frequentati Dalla vittima La violenza Di genere Non è soltanto Quella contro le donne E va oltre E va oltre il maltrattamento Fisico Infatti Esistono Delle forme Di violenza Psicologica Che possono Completamente Condizionare Logorare E distruggere La nostra vita Perciò È fondamentale Riconoscerle E non essere Più disposti Ad accettarle A nessuna condizione Comunque penso Che se la paura Fa tremare Non ho mai smesso Di lottare Per tutto quello Che è giusto